Quanti pomeriggi passati a giocare a Crash Bandicoot per PS1 Adesso è stato rifatto per mobile, Android e per iOS Vediamo subito il caricamento, dai non vedo l'ora di giocare Infinito caricamento Eccolo arrivato Pronto a partire, questo penso sia proprio il tutorial Tap to run, vai Le classiche mele Ok, saltiamo Di lato Destra, destra Io ho appena la mano Uh c'è un acu-naku, vediamo se Bluboga Ma penso di Ok, giusto, sì, devo atterrarmi Scivolata No, vabbè, ma troppo bello Quell'insettino lì Dai, come prima prova dai che non è andata male Riproviamo Sono già un pro? No, questo è bellissimo Sono già morto dieci volte, vediamo cosa riusciamo a fare Infatti ogni tanto Crash si gira per dire ma che stai facendo Ah non era la rampa, devo saltare Eh ma oramai ci ho preso la mano Vediamo le mele, le mele Qua cosa devo fare? Ah ok, i funghi servono per saltare Devo uccidere l'antra La formichina verde Anche la musica qua inizia a essere già più aggressiva Mi sta lanciando queste palle Queste palle verdi gelatinose Ero tanto così Tanto così Forse è perché ho il mouse Pensavo di riuscire a spararla via col corpo Invece no Te la farò a prenderti o? No 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 Pam 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 Ah c'è anche l'acido Se ti lancia la palla E vai sull'acido Muore lo stesso Ti prenderò Stavolta non mi prendi Stavolta Per un pelo Cosa faccio? Mio primo diamante Power jam E se ne va No ma quanto è bello Bellissimo Livello 1 superato Ebbene questo era il primo livello di Crash Bandicoat Fatemi sapere se volete vedere un altro livello Cosa ne pensate se vi è piaciuto E noi ci rivediamo sempre qui Un saluto da Alessandro a volte Ciao